All right, l'ho trovato veramente simpatico, Jimmy Olsen è fantastico. Ehi, venite qui. Andiamo, andiamo, andiamo. Venite. Clark, sarà meglio andarsene da qui. No, sarà meglio fare come dice lui, Lois. E non faccia niente, signore. Stiamo arrivando. Già, andiamo, coraggio. Scusami. Entra lì, via, via. Stia attento con quella, signore. Muoversi, muoversi. Scusami. Contro il muro. Un momento, signore, un momento. Io mi rendo conto chiaramente che oggi sono tempi duri per qualcuno, ma non è questa la soluzione. Non si possono risolvere con le armi i problemi della società. Sai una cosa, amico, hai ragione. E' convinto a cambiare vita. Buon per lei, signore, così mi piace. Vedi, non vuol far male a nessuno. È vero. Basta che la ragazza mi passi subito la borsa. Ma certo. Su, da brava, adesso, presto. Beh, Lois, credo sia meglio. Lois, ma che stai facendo? ми... ... ... ... ... Grazie.